In Germania, dove il pilota italiano Luca Salvadori ha perso la vita in un drammatico incidente durante le qualifiche dell'International Road Race Championship. Il 32enne milanese stava partecipando alla prima sessione di prove per le categorie Superbike e Stock 1000 quando, durante il primo giro, è rimasto coinvolto in un contatto con il pilota tedesco Didier Grams. L'incidente è avvenuto nelle fasi iniziali delle qualifiche, ma la dinamica esatta resta ancora da chiarire. A seguito dell'impatto, Salvadori è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale in condizioni critiche. Nonostante gli sforzi del personale medico, il pilota è deceduto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate. La gara, che rappresentava la sesta e ultima tappa dell'IRRC, è stata subito sospesa in segno di rispetto per la tragedia che ha colpito la competizione. Le autorità stanno ora conducendo un'indagine per fare piena luce sull'incidente e verificare le circostanze esatte che hanno portato alla collisione tra i due piloti. Luca Salvadori, noto non solo per i suoi successi in pista, ma anche per la sua presenza online, dove raccontava la sua carriera e la passione per il motociclismo, lascia un vuoto enorme nel mondo dello sport e tra i tanti appassionati che lo seguivano.